Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua ritornati con Max Cureggia Junior L'ultima volta è successo qualcosa di strano perché ho pubblicato un normalissimo video di Max Cureggia Junior Che poi è stato limitato ai 18 anni, non ho capito perché Ok che è brutto sì ma Cristo Santo mettermi i limiti d'età a Max Cureggia non si può a Youtube Comunque oggi ci siamo, siamo pronti a spaccare il culo anche di Youtube stesso Gli entriamo dentro come un cazzo di carro armato E per chi non se lo ricordasse nell'ultimo episodio eravamo rimasti così Siamo ancora primi con il Manchester United alla pari con il Liverpool Quindi signori se non volete essere incornati da Max Cureggia mi raccomando dovete lasciare un like Proviamo a superare i 20.000 likes come sempre per questo belloccio qui Quindi andiamo subito a coccolare quei bei tigrottini dell'Ul City Ed eccoci qui signori si ritorna in Premier League Eccole lì tigrotti, stanno lì, sono già pronti, hanno paura Eh, così Questo come cammina Ok sì che c'è Mac, magari è già passato da lui per starla così Ok Mac J vai, aspetta taglia, taglia Mac Ecco l'ha tagliato Mac, ha tagliato Mac, donna Ha tagliato anche il culo di Odubacio Bravo Mac, gran palla Gran palla recuperata, aspetta, fa salire la squadra Fa salire la squadra, ecco Mata, vai Mata Vai, ma bravissimo Mata, peccato Che cazzo era quel passaggio lì, maledetto Ingrado No, no, un bocani Madonna santa Va bene, va bene, stiamo salendo bene, stiamo salendo bene Ok, Rashford, guardami, guardami Rashford, perfetto Eh, Mac che croce Annaggia, ho incrociato la zia Uh, la messa, uh, la messa Attenzione, ci sto io Bravo Mac, eh, quello mi ha tirato una facciata Ci siamo scambiati i nasi Ok, no, ma perché non continui? Oh, oddio Che velo, che velo Madonna C'è tutto lo spazio, vola, vola figliolo Eh, ma c'è questo strozzo che mi sta sempre addosso Vero ce l'è, ok Vai show, vai show, pallo Ok Ma guarda, ok, perfetto Griezmann Va bene, Mac Oh, no, no, Mac Che cazzo di gol, signori Sblocca tutto così, Mac Apre il piattone Madonna Guardalo, Rashford, ti ha dato un bacetto a quella palla Oh, mio Dio Primo tempo andato, signori Stiamo vincendo meritatamente Anche se abbiamo effettivamente fatto fatica per tutto il primo tempo Bravo, Mac Recupera palloni Ok, veloce, aprimi Va bene, va bene, veloce, Mac Veloce È tutta tua Non puoi sbagliare, Mac E sbagliare, invece non ci sto credendo Va bene, va bene Guardami, perfetto Rashford, perfetto Eh, ma guarda quanto mi meccano addosso sti bastardi Veloce, Mac Scarica Appoggia di show Aspetta Uh, fallo Albero Va bene che ce l'abbiamo Oh, mio Dio Menzano Che cazzo di gol Madonna, signori, però Che cazzo avevamo creato noi Guardalo che fa i cuoricini, sto stronzo Noi facciamo un'altra cosa Mamma mia Qui avevamo creato qualcosa di incredibile Guarda qui Palleggio Era fallissimo questo Bel passaggio lì E comunque mezza chiude tutto Vai Griezmann Ok, perfetto Guardalo l'assist Vai, mata Vai, mata Madonna, mata Non la mette Oh, mio Dio Vedi qui, Mac Corrigli dietro Corrigli dietro Guarda, non lo riesco a prendere Maledizione, mata Eccolo lì, sta arrivando Guardatelo Arrivano così Uh, errore, errore, errore Ok Vai, ripartiamo Ok, Mac Con calma, ragiona, Mac Guarda, tira da lì, Mac Uh, Madonna Uh, ok, ok Lanciami, mata Va bene, ha cambiato il favore Perfetto, vai, Mac Vai, Mac Porta palla Porta palla, sì, ma non c'è nessuno in mezzo, ok A noi non serve avere compagni in mezzo Madre di Dio Fai gol Guarda, che sfiga Ok Vai, Ibra, vai, Ibra, vai, Ibra, vai Ibra, Ibra Ti prende un rigore Rigore Oh, mio Dio, signori Mi hanno tolto l'assist per Ibra E tira Griezmann, ragazzi Vediamo insieme Se fa gol Vediamo, vediamo, vediamo E lo fa, cazzo, Griezmann Vieni qui Ti intercetto a sta botta Ti intercetto Ma perché? Perché? Lo volevo bloccare Veloce Oddio, ragazzi, sono scoppiati Sono completamente scoppiati questi qui Vai per Ibra l'assist Vai per Ibra l'assist No, Ibra, Ibra Ma che cazzo di problemi mentali ha? Ibra Vai, Ibra Vai, Ibra, ok Assist Ibra Assist Ibra Mack Reggie Mackie Krull Il sinistro della morte Ed è finita, signori Gran prestazione per noi Oh, mio Dio, ci siamo mangiati una cifra di gol, però Ok, ragazzi, ci siamo Champions League Siamo contro il Bayern Monaco Siamo tutte e due a sei punti pari Quindi Bisogna vincere per forza Stiamo giocando con la squadra di Dolare, ragazzi Infatti abbiamo Aubameyang Li punta Ci abbiamo una bella squadra Mamma mia, signori Qui in questo stadio Ci ha fatto la storia Mack Scureggia Senior Oh, mio Dio, che figata Comunque Eccoci qua Subito, subito Ok, ok Guarda che Uh, Aubameyang Aubameyang Oh, mio Dio Oh, mio Dio Oh, non ci credo Oddio, ce l'abbiamo Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo Ok, vai, tira Oh, mio Dio, signori, subito È qualcosa di incredibile Stiamo già vincendo Ma dove vai, Mack? Mack, vai su di lui Vai su di lui E non c'è andato Ma che passaggio aveva fatto all'inizio Mack Scureggia Poi un po' di confusione Ma Schneider li inchiude Ahia, Robben è brutta È brutta Robben È sempre sul sinistro Se la mette No, 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 non così Bravo De Gea Attenzione Attenzione, è brutta Luke Shaw Salva tutto Bravo Mack Ripartiamo Veloce Veloce Sali Aubameyang Sali Fammi crescere Stacazzo di squadra Veloce Apri Ma È un passaggio di merda E mi dice pure a me Brutto passaggio Quello ce li vedete al contrario Nandoschi, no Fermatelo Bravi, bravi Spingetelo via Spingetelo via Oddio, arriva L'ho ucciso Ho ucciso Robben Staglia brutta Schema Schema Vediamo che cosa fanno E smettetela di salire Imbecilli E quello si è fatto a munire Attenzione Vediamo un po' Uva diretto Madonna Bravo Mata Bravissimo Siamo tutti Siamo tutti Siamo tutti Ok, veloce Veloce Aubame Corri Corri Aubame Vai che sei andato Vai che sei andato Aubame Passala Ok, no Mack No, no Questa è l'emozione Ok, veloce Mamma mia Vai, vai Ma Oh mio Dio I passaggi a Aubameyang Imparateli a fare Guarda là Guarda là No, doveva venire qualcosa di molto meglio Primo tempo è andato signori Stiamo vincendo Va bene, va bene Vai, sali show Ok, Schneiderling Guarda Ma me l'ha già visto Non me l'ero neanche chiamata Già me l'aveva visto Mack la prova Forse era meglio non farlo Veloce sotto Eh, brutta 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 Vediamo un po' se riusciamo a controllarla Un po' Fallo albero Ok, ce l'abbiamo ancora Ma Smalling del cazzo Dai, vai Ibre Appoggia di Ibre Ok Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare Ok, Mack Mack da fuori Voglio fare gol in questo stadio Attenzione Attiaco No, 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 no Eccola Oh, madonna Vai lì con la terza gamba Oh, attenzione Attenzione Uh, Hummel Si ha sbagliato il passo Hummel Si ha sbagliato il passo Però c'è sempre su di me Anche se aveva sbagliato a entrarmi Ah, brutta Non così Non così Eh, la difesa è in ritardo Aia, aia Oddio no Mi stanno svenendo i giocatori Porco cane Mamma, c'ero io su Muller Guarda È un cazzato nero Bello questo velo Madonna, quanto sei stronzo Nientragli dentro Eccola là Eccola là Oh mio Dio, Alaba Tienilo 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 Ecco questo andò a cucerlo La storia della mia vita Goal al novantesimo Dio santo Guarda quel ritardato di merda lì Perché non c'era nessuno poi? Ha preso in faccia L'ha preso tra l'altro a De Gea Guardate qua Spur Ha distrutto Ed è finita così Dio che sfiga Certo non una delle nostre migliori partite Però comunque Meglio un pareggio di una sconfitta Certo Prenderlo al novantesimo Il pareggio È sempre un bel dito nel culo Vero FIFA? E ok signori Siamo ritornati nel campionato Il Liverpool continua a vincere insieme a noi Quindi probabilmente Ce la giocheremo sullo scontro diretto Sa di fatto che adesso Stiamo contro i cervetti Del Watford Quindi Vediamo di rompere le corna A questi cervi Eccoci No c'era un braccio di mezzo Mi volevo vedere cazzo Guardalo questo qui È tutto feliciotto Sta di Che bello sto giocando Trafford Però non è emotivamente pronto A un pugno in culo di Mac Scureggia Ho una nasata che è peggio Ok Mac Ok Mac Guarda che c'è questo libero in mezzo Perfetto Rashford ok Vai Mata Che tiro Dai su Su Mata Vai sotto Perché 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 nessuno mi considera in tutto questo Va bene Mac Va bene Mac Provalo Mac Oh mio Dio Mac Mamma mia signori Ha lasciato partire un siluro Che va ad atterrare proprio tra le loro chiappe Madonna santa Ma guardate qua che cazzo di tiro Porco Due Uh Mamma Mac Che intercetto No però te la sei fatta rirubare Attenzione Attenzione Ragazzi Vuole tanto addosso Madonna No 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 raga Vi siete fatti girare Ma tanto è arrivato quello Mamma che scambio che sta venendo fuori ragazzi Eccolo là il passaggio di merda Mata rialzati Sta a prendere il sole Ha fatto la scivola Ha detto Vabbè resto qua così No No Un taglio così bruttissimo Ma quello è Viene morto uno in aria Allora gli è esploso proprio il calcagno No ragazzi Coprite il tiro Oh mio Dio Primo tempo andato signori Madonna che rischio Vai Rashford Guardami Aspetta che ce l'hai ancora Vai che ce l'hai ancora Rashford Ok Mac No Ok Cosa sta succedendo Maledizione non ci sto capendo nulla Però Aspettiamo Aspettiamo Di sinistra Madonna santa Non fa proprio un cazzo di niente Guarda quello ha fatto mezza cosa così Sono andato lunghissimo Attenzione Attenzione ragazzi No Non così No ecco Oh mio Dio Oh mio Dio No Eccolo Gliel'abbiamo data l'occasione Oh cazzo Eh sta gioca solo il Watford adesso però ragazzi Cioè non riusciamo più a uscire dalla nostra metà campo Maledizione Vai Mac Vediamo un po' se riusciamo a creare un po' di superiorità numerica il cazzo Ma non ho stoccato Non c'ho più le gambe manco per me adesso Uh tiro le punizioni Oh mio Dio signori Questo è un onore Vediamo un po' di tirarla bene Dai Mac che è buona Vai Mac che buona Oh mio Dio Ma che gol abbiamo fatto Oh mio Dio signori Stupendo Ma che punizione La pure toccata Gli ha piegato la mano E Mac che va bene L'ho fatto Oh mio Dio Sta fallo da energetica Rega Madre di Dio Il gol più bello Al minuto 69 Mac scureggia a 90 Attenzione Attenzione A Dini Attenzione No L'ha fatto giro Tigea Guardami Vai Mac Corri Corri A spallate Madonna santa regge Regge Mac Regge Mac Oh mio Dio non cade Mac non cade Mamma mia è inarrestabile Guardate tutti così Ed è finita signori Oh mio Dio Abbiamo fatto il gol più bello della nostra carriera oggi Una punizione da lontanissimo Titolo di migliore in campo ragazzi Strameritato per noi E sono curioso di vedere adesso Che cosa ha fatto il Liverpool Uh attenzione ragazzi Il Liverpool ha pareggiato Quindi siamo sopra di loro di due punti Lo sto vedendo da questa classifica qui Perché come potete vedere La prossima partita È della EFL Cup Siamo contro l'Artel Pool United Eccoci lì Quindi ragazzi Nel prossimo episodio vi voglio Perché giocheremo quest'altra competizione Fatemi sapere voi Che cosa ne pensate di questo gol E se soprattutto È il gol più bello Che avete mai visto fare A Mac scureggia junior Quindi ragazzi Per questo episodio Ci possiamo fermare qua Mi raccomando Come sempre lasciate un like Proviamo ad arrivare a 20.000 Come sempre Lasciate anche un commento Solo il mio saluto Bella Ciao a tutti 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 Ciao a tutti